Ciao ragazzi, ma avete visto le fantastiche offerte dei miei amici DLT Viaggi? Ci sono tantissimi hotel e villaggi a due passi dal mare e a prezzi veramente molto molto bassi e accettano anche il bonus vacanza, quindi prenotate subito sul sito www.dltviaggi.it questa è la pagina e noi ci vediamo in spiaggia